Non è cambiato nulla, ti dico la verità, come sapevo che prima non eravamo dei brocchi, come so che adesso non siamo dei fenomeni e questo non c'è dubbio perché io ho la fortuna di vederli ogni giorno, gli allenamenti e i giocatori che hanno a disposizione e comunque non è anche questione di atteggiamento, è questione, sai, riesci a sbloccare la partita su un paio di circostanze, ci siamo trovati il momento favorevole per raddoppiarla e poi andava tutto in discesa però non voglio vederla tutta così positiva, non perché non voglio, vorrei, ma ancora non è perché c'è momenti in cui dobbiamo migliorare nel fraseggio, nel possesso palla, lì è molto c'è momento in cui dobbiamo gestire la palla in una certa maniera, però è il momento di crescita, era normale e questo non devo far pensare che noi siamo prontissimi, ma come in verità non ci sono neanche altri il momento della stagione è questa, ancora mancano tanti giorni a quello che è il campionato però è normale, volevo vedere l'atteggiamento da parte di questi ragazzi che c'è stata, hanno dato tutto dall'inizio, anche chi è subentrato ha fatto bene, per ora note positive, ma non erano neanche prima quelle negative dobbiamo cercare in questo momento, ecco, quello che mi prevede più, aumentare quei minuti in cui abbiamo fatto bene De Grazia è un giocatore così d'utile che dove lo metti fa bene, quei giocatori dove hanno quel temperamento quella voglia, quella abnegazione anche tattica, è un jolly incredibile, quindi no, non creda ma Dio comunque ha ottime qualità da regista, ecco, forse De Grazia è più orientato ad attaccare lo spazio però oggi ho chiesto un sacrificio, l'ho fatto e questa è la mia fortuna, avere dei giocatori d'utili in certi momenti della partita e del campionato Molto bene, molto bene, lo conoscevo un giocatore, noi non c'è dubbio che come squadra a livello proprio di statura, di struttura non siamo veramente messi benissimo però sapendo che in casa, nel nostro campo sintetico, insomma, magari ti può anche agevolare avere i giocatori un po' di così, come lui, come De Grazia e come altri però ha fatto bene, sono contento, ma in verità come tutti è logico che era appena arrivato e mi interessava vedere come si integrava bene con i compagni e capire quel ruolo, il suo ruolo lo può far bene e andiamo avanti Grazie 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 Grazie